Tecnitalia è un'azienda che sa ascoltare, sa ascoltare i propri clienti, gli ottici e sa fornire risposte concrete. Quindi sempre di più Tecnitalia non è un'azienda solo di arredamento, facciamo bellissime cose di design, un prezzo interessante, una produzione diretta, ma Tecnitalia è un'azienda che andando su mercati internazionali recepisce ciò che questi mercati richiedono, le nuove tendenze, i nuovi bisogni e le mette a disposizione degli ottici che si affidano a Tecnitalia. Noi non parliamo quasi mai di emozionalità, di emozione, ma parliamo di sistemi di induzione all'acquisto e siamo quasi maniacali nel nostro operare perché la nostra unica volontà, la primigenia volontà, è quella di aumentare il profitto dell'ottico. Siamo costantemente in aumento di fatturato, abbiamo sempre più nuovi macchinari, nuovi mercati, nuovi agenti, nuovi reti commerciali. È proprio il frutto di questa nostra naturale propensione oramai. Muab rappresenta veramente una nuova frontiera nel campo dei display per occhiali, nell'ottica. Per la prima volta il fondale è plasmato e serve in maniera esemplare a mettere in evidenza, a valorizzare, ad arricchire le montature esposte. Il Muab è un vento leggendario che plasma gli oggetti e diventa esso stesso materia. Il Volat è un sistema espositivo formato da elementi sinuosi, setosi, da toccare, da apprezzare nella loro plasticità. Immaginate che il Plexiglas o il Corian che curviamo è un materiale molto duro. Con questo processo di plasmatura del Plexiglas o del Corian riusciamo a dare quasi un panneggio, una dimensione poetica ad elementi che normalmente sono molto freddi. La Movida è un sistema complesso di esposizione. Noi tendiamo a cercare di non esporre in maniera ripetitiva i nostri occhiali. In questo modo, con Movida, con tettonica o con altri sistemi espositivi, tendiamo a frammentare l'esposizione, a razionalizzarla e a proporla al cliente in maniera tale che non abbia l'idea della ripetizione della montatura. La Solaris è un espositore che è stato studiato a livello ergonomico per favorire il consumatore nell'apprezzamento dell'occhiale dalla prima all'ultima fila. È un espositore interessante perché ha tre o quattro livelli di comunicazione. Il senso è la vista. Qui il sistema è interessante perché il fondo è in metallo e consente di appoggiare magneticamente le informazioni, gli specchi e tutti gli accessori che consentono una vendita ottimale direttamente sull'espositore. Quindi massima versatilità, massima possibilità di personalizzazione e un impatto estremamente forte, hard ma nello stesso tempo elegantissimo. Questo espositore mi è particolarmente caro perché da qui nasce la possibilità di comunicare per più livelli il senso addirittura del lavoro dell'ottico, perché il senso è la vista. Grazie. 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 Grazie.